Un'altra categoria di alimenti che devi tenere molto 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 sotto controllo quando stai facendo la fase 1 della dieta low FODMAP sono la verdura, quindi i vari tipi di verdure. Perché? Perché le verdure contengono parecchi FODMAP parecchi FODMAP soprattutto fruttani, galattoligosaccaridi, fruttosio e polioli soprattutto mannitolo e sorbitolo. Questo tipo di verdure inoltre può avere anche verdure specifiche che hanno più di un FODMAP presente in contemporanea come per esempio il caso degli asparagi che contengono sia fruttani, sia fruttosio, sia mannitolo. Quindi l'asparago contiene purtroppo tutte e tre questi FODMAP e quindi è un alimento che va assolutamente chiaramente escluso dalla fase 1 della dieta low FODMAP. Le verdure quindi possono essere una fonte di problemi per chi ha un intestino sensibile e quindi intolleranze alimentari, fermentazione o comunque generale difficoltà nell'assorbimento di questi FODMAP. Però rimangono comunque la nostra fonte principale di sali minerali, di vitamine e di antiossidanti e di tante altre sostanze importanti per la nostra salute. Quindi se stai guardando questo video, questo video si riferisce alla dieta low FODMAP e all'esclusione di verdura solamente ad alto contenuto di FODMAP, non della verdura in generale. Quali verdure sono le più problematiche? Beh, abbiamo detto gli asparagi e anche per esempio i cavolini di Bruxelles, la cicoria è un altro alimento problematico e anche i funghi che andrebbero evitati. A verdure invece che vanno molto bene possono essere ad esempio le zucchine, questi sono un alimento che va molto bene, o i cetrioli per esempio, che hanno anche loro una buona adattabilità alla fase 1 della dieta low FODMAP. Però tengo a ribadire che l'esclusione della verdura deve essere solo a carico di quella ad alto contenuto di FODMAP e non in generale a tutti i tipi di verdura possibili. E vedrai che nonostante ti sembra ovviamente, ed è a ragion veduta, che la verdura sia una classe alimentare sana e da consumare, ci sono molti problemi in persone sensibili con la fermentazione delle verdure. e magari l'hai già anche notato nella tua esperienza pratica quotidiana.